Se una persona è gay, chi sono io per giudicarla? Lui è Arnaldo. Piacere. È il mio compagno e vogliamo sposarci. Lo dice anche il Papa. Presto potrà farlo, vero? Potrà farlo, vero? Come mi sta? Un matrimonio è un matrimonio. Ci vuole la torta a multipiano. E dai, sogniamo un po', ma che ci costa? Guarda, c'è anche il ristorante per i ricevimenti. Eh già. Primo, sposarsi chi lo dice? E poi io odio tutto ciò che è ostentazione. Il corso prematrimoniale non ci riguarda come non ci riguarda del resto il matrimonio. Eh certo, non ci riguarda mai nulla a noi, eh. Ma tu mi ami oppure non sai come far passare il tempo? A proposito, avete cambiato insegna. Al posto di galleria, nozze g. Ma quella vocale g. Nozze gay? Nozze gattico, no. Nozze gabbana. Nozze gay? Io sono una transessuale. Nozze gay! Vi dichiaro marito e marito. Ora gli sposi si possono baciare. Arnaldo! Mamma! Papà! Ma che cosa stai facendo? Nozze gabbana! Ma che cosa stai facendo? Mamma! Ma che cosa stai facendo? Grazie.